Criostasi, un mondo perfetto per conservare l'apparezza e la bellezza. Criostasi è un mondo perfetto per vivere per sempre. Il mio corpo non si frantumerà, l'acqua non lo gonfierà, non si potrà farla mai più. Criostasi, riuscirò a vivere per sempre e quando troveranno il modo per farmi essere immortale, scioglieranno il ghiaccio del mio corpo stanco. Criostasi, sarò per sempre un grandissimo presidente.